Allora Fetch, dove sei? E' il tuo fratello, e il tuo fratello ti sta chiedendo aiuto per portare a casa la pelle Ecco fatto Se non vuoi farlo per me, farlo, almeno per la tribù Ok, di cosa hai bisogno? Grazie Bravo Dunque La cosa che ho inviato per la tribù è per te Grazie, ti tengo aggiornato Io non voglio aggiornamenti sugli spiluppi A dopo, reggi imbronciato Ma no, ma povero Allora Eh, non c'è quelle casse luminescenti che il DUP ha sparso per la città Sì, le ho viste Tracciano i nostri spostamenti Beh, ho capito come usarle per, diciamo, assorbire nuove abilità Voglio provare con il potere al neon che mi hai dato tu Dato? Eh, ho pensato che forse potresti venire con me Perché non mi spieghi come funziona? Oggi ho raggiunto l'obiettivo minimo di spacciatori, quindi, perché no? Eh, brava bambina A muro Eh, esatto Brava ragazza Brava bambina Beh, ti aiuterò anche io con gli spacciatori Io e la mia nuova spada laser Vieni qua Fatto Buonanotte Ehi, dove sei? Ho visto, esatto, un triangolo Ed ecco qua Una delle scatoline Ciao Fetch Sto bene Sto bene Io e i tracciatori di conduit non ci capiamo Beh, aspettati vedere questo Non mi sembra una grande idea Non ti preoccupare Ora sei da solo Schipiush 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 Ok, la vista Per Catturare subito la gente Ehi, gente Ehi, gente Avete visto una ragazza Ah, gli ho tarzato le ari Non c'è di che Comunque In realtà era facile Eravamo praticamente qua accanto Quindi Bel lavoro Ma dai Oppure potresti andare al diavolo E c'ha ragione lei Oh, oh, oh Drone Preso Liberiamo sta gente Altro robottino Ecco qua Vediamo cosa possiamo fare Con tre frammenti 20% in più Non sarebbe male 25% in meno Ok Premi X Mentre vai con la velocità della luce Ok Tanto tra poco Dovremmo trovare un altro Di quelle cassone giganti Ma come? Vabbè Fumino Vieni anche tu Tranquilla Ho già fatto Non ti preoccupare Fumino poi Che nome di merda Schatush Schling Uh, il mi No, la granata Perfetto Pensavo già al missile L1 Schatush Spacciatori Spacciatori Eh, ti serve ancora aiuto? Non mi serve Ma lo accetto Scavum Presi Vieni qua tu Questo è tuo Io cerco un altro Di quegli affari Ehi Fermo lì tu Fatto Ne manca solo uno Andato Altro robottino Altro frammento Ok, ho trovato il prossimo Tu continua a seguire Gli indicatori Ovvero quelli Ma dai Sai Forse dovremmo darci una calmata Con gli spacciatori Scherzi o parli sul serio? Beh Noi abbiamo i poteri E loro no Dobbiamo dare il buon esempio Eh certo Sì, sì Tra l'altro Se non ricordo male In questa fase di gioco Noi non possiamo Riassorbire il fumo Tipo abbiamo una repulsione Al fumo Perché ovviamente Tu devi assorbire i nuclei Per aumentare Il neon adesso E se tu assorbissi Un altro nucleo Mentre sei col fumo Beh Non funzionerebbe ovviamente Liberiamo sta gente Aia Bastardo Tieni Dammi Quell'altro frammento Tu vai a terra Più che altro Non so dove devo andare adesso Ho perso i segnali Oh Però ho trovato un robottino Quindi Tutto di guadagnato Insomma Ecco qua Siamo a Tre frammenti Aspetta Robottino Ecco qua Oggi andiamo a caccia Un altro ancora Eccomi qua Fetch Scusami se ci ho messo un po' Mi stavo divertendo Scatiusce Vediamo Il missile Perfetto L'unica cosa è che È a ricarica Cioè devi Kaboom Devi come dire Ricaricarlo L'attacco Per poterlo usare Il che lo rende Eventualmente Inferiore A quello Di Di fumo Però Non si butta via Nulla Sei potenziamenti Tra l'altro Tra i potenziamenti Credo proprio ci sia Ecco questo lo voglio prende Però no Esatto Questo qua Incrementa 4 No Non abbassa il tempo Pensavo abbassasse il tempo Di ricarica Peccato Un altro Cerchio incantatore Mi viene il sospetto Che c'entri io In qualche modo Un po' No non è vero Non credo di essere La ragione per tutto Solo per il tuo Evidente cambio Di atteggiamento Ah beh Vuol dire Veramente nulla Allora Allora Aspetta Catabum Facciamo cadere questo Liberiamo sta gente Aspetta 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 Ah perfetto Siamo diventati buonissimi Ora Siamo dei cavalieri No Dei campioni Scusami Dove è andato È scappato Vabbè Io mi assorbo questo Ed eccoci In cima Al palazzo Oh Vedo che qualcuno È un po' assediata Arrivò 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 Olè Fatto Assorbiamolo subito E vediamo qual è l'ultimo potenziamento Ovvero L'attacco finale Scataclusce Scataclusce Questo attacco è fighissimo Ciao Tutti spaccati Sto attacco È veramente Incredibile È veramente figo Ci voleva Eh esatto Eh esatto Ciao ci vediamo La scintilla 13 potenziamenti Ottimo Vediamo quali sono allora Abbiamo 9 frammenti Potremmo già iniziare ad aumentare La nostra quantità Di neon disponibile Consumarne di meno Vabbè Aumentare un po' La grandezza della bolla Che può essere utile E basta Per il momento No non è vero Abbiamo assorbimento rapido Ottimo Questo è utile La nostra quantità Per il momento Che può essere utile Che può essere utile Che può essere utile Che può essere utile Grazie a tutti.